Vedete come vi sta montando l'assistente di volo, agganciate la cinghia su davanti e tirate l'estremità in modo che aderisca bene, copiate le salvaggente solo immediatamente prima di abbandonare l'aereo tirando le maniglie rosse, se fosse necessario soffiatene i tubi di gomma. Io ho l'aligno già che sento poche tanna di ossi, tope nel container a tutti i genitori e camminate le tende, e quindi vi raccomandiamo di prendere visione le norme di sicurezza riportate solo al cartoncino, posto nella tasca della portazione di fronte a voi, grazie per l'attenzione. Per sottotitoli informazioni, vi raccomandiamo di prendere visione le norme di sicurezza riportate solo al cartoncino, e quindi vi raccomandiamo di prendere visione le norme di sicurezza riportate solo al cartoncino, e quindi vi raccomandiamo di prendere visione le norme di sicurezza riportate solo al cartoncino, e quindi vi raccomandiamo di prendere visione le norme di sicurezza riportate solo al cartoncino, e quindi vi raccomandiamo di prendere visione le norme di sicurezza riportate solo al cartoncino, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.